È un momento che abbiamo vissuto insieme, che abbiamo cercato di stare al meglio possibile, ripeto, insieme, con la consapevolezza che non è facile. È un momento dai ragazzi che sono stati tanto tempo con una grandissima persona, un grandissimo giocatore, un grandissimo allenatore, che fa parte del Bologna, che si è meritato tutto l'ommaggio che è stato fatto e si merita tutto di buono che possa accadere, e stare vicino a quelle persone più vicine a lui, che sono stati questi ragazzi per tanti anni, e che hanno fatto delle cose bellissime. E allora è cercare nel modo più naturale possibile di continuare, e di vivere giorno dopo giorno al miglior modo possibile. Morigno è una persona che per me è stato, parlando professionalmente, in carriera molto importante, perché abbiamo fatto un anno fantastico insieme, dove ho imparato tante cose, ho migliorato in tante cose, e ho avuto la fortuna di poter partecipare in un gruppo che alla fine abbiamo vinto, per non dire tutto, abbiamo vinto quasi tutto. È stata sempre una persona speciale per me, non solo per il tratto da giocatore allenatore nel campo, sino come persona, una persona giusta, che ha cercato sempre di fare la cosa migliore per tutti. Sono tutti giocatori di grandissima qualità, giochi chi giochi, troveremo una squadra difficile da affrontare, perché con questi tipi di giocatori quando hanno la pala è una buona squadra, ma anche sono capaci di stare indietro, di difendersi, una squadra solida difensivamente, e nelle ripartenze con dei giocatori come Zagnolo poter creare delle difficoltà, e noi essere pronti a ogni caso di affrontarle, stare insieme, essere equilibrati, e attaccare nel modo giusto per creare delle difficoltà alla Roma e allo stesso tempo non permettere queste ripartenze che fanno molto male. Grazie.